Io inizierei dalle parole dell'assessore Garavaglia, il quale dice va bene i tagli però che siano fatti con criterio, no ai tagli lineari ma ragioniamo sulla base dei costi standard e rifiutando i tagli lineari esaminiamo quali sono gli enti più virtuosi e quelli meno efficienti e sulla base di questa analisi agiamo. Va bene, su questo siamo d'accordo e infatti questo è il contenuto anche di un nostro ordine del giorno che presenteremo, che sto presentando sostanzialmente e che è anche il contenuto di un ordine del giorno che verrà presentato e che noi condividiamo in linea di massima. Detto questo noi però nel nostro ordine del giorno aggiungiamo altre due considerazioni, altri due impegni verso la giunta. Il primo è di impegnarsi per premere affinché questi tagli vengano redistribuiti più equamente tra i vari organi dello Stato, partendo dallo Stato centrale, quindi i ministeri, quello che si diceva che è stato detto anche prima, che è stato detto dagli stessi esponenti del PD non più tardi di qualche giorno fa, eccetera, eccetera, eccetera. E in più però chiediamo anche che la giunta si impegni, ovviamente augurandosi che questi tagli vengano ridotti, che però si impegni a gestire questi tagli iniziando a tagliare qui in regione Lombardia, per esempio diciamo noi, sulle grandi opere infrastrutturali che sono state decise senza condividerle con gli enti locali o con i cittadini, e quindi togliendo da qui per cercare di garantire invece i servizi, l'assistenza, la sanità pubblica, il welfare, il sostegno alle scuole e il trasporto pubblico locale. Quindi iniziamo in questa maniera. Dopodiché però ci tengo ad aggiungere altre considerazioni. La prima è che sicuramente questo governo si comporta da illusionista, perché fa credere di tagliare da una parte, e quindi di tagliare anche le imposte, e quindi di andare a favore dei cittadini, poi banalmente taglia sulle regioni, e quindi i cittadini verranno vessati da un altro lato. Quindi il cittadino alla fine paga, comunque. Quindi l'illusionismo di Renzi e di questo governo. E in più ci tengo a sottolineare come in quest'Aula sia il PD, io ritengo con un po' di imbarazzo, si trovi a dover difendere in quest'Aula la regione e i tagli alle risorse, e difendere e chiedere insieme a noi che non avvengano questi tagli, ma dall'altra parte si trova a sostenere chi questi tagli li sta facendo, con grande disprezzo anche dell'ente regionale. E allo stesso modo ci tengo a sottolineare come anche il nuovo centrodestra, che parla di un professore che boccia tutto indistintamente e che taglia ovunque linearmente, che però questo professore si chiama Renzi e sta governando insieme a voi. Sta governando insieme al nuovo centrodestra in Parlamento. E oltre a questo Renzi si avvale sempre di un alibi, dicendo le regioni protestano perché sto tagliando, bene che protestino pure e gli passerà, e che pensino a ridurre i loro sprechi. Ecco, credo che questo alibi che viene fornito a Renzi sia un alibi che è stato fornito dalle regioni stesse e in particolare dagli stessi consiglieri regionali, da chi è stato nelle istituzioni, nelle regioni fino ad oggi e che ha utilizzato e che ha sprecato le risorse con scandali vari e che quindi agli occhi dell'opinione pubblica è difficile poi ribattere a queste osservazioni che vengono fatte dal Presidente Renzi. Perché effettivamente agli occhi dell'opinione pubblica la regione è quell'ente, non è più quel centro di spesa ma è più che altro quel centro di spreco perché è stata amministrata fino ad oggi o perché era composta fino ad oggi da persone che effettivamente nei fatti i soldi li hanno sprecati. E quindi forse dovremmo, noi, credo di no, ma tutti gli altri dovrebbero farsi, chi c'è stato prima di noi dovrebbe farsi una grossa analisi di coscienza e anche un mea culpa per aver trasformato la regione in questo e per aver offerto a Renzi questo alibi che è difficile da scardinare anche agli occhi dell'opinione pubblica e quindi anche i tagli alle regioni forse agli occhi dell'opinione pubblica risultano accettabili proprio perché le regioni nell'immaginario collettivo sono questo centro di spreco dovuto a chi fino ad oggi le ha governate sprecando risorse perché tagliare e tagliare anche quindi fare i tagli partendo dagli enti meno efficienti o dalle spese meno efficienti significa anche tagliare in privilegi e noi qui siamo sempre stati molto resti a tagliare in privilegi significa anche tagliare in clienteralismo e noi qui siamo sempre stati molto resti a tagliare in questo e quindi dobbiamo farci parlo, metto dentro anche noi ma ci tengo a sottolineare che noi cerchiamo e nei fatti ci siamo distinti dobbiamo farci un serio analisi di coscienza e partire anche dalla regione poi siamo d'accordo nel sostenere tutti insieme ma ripeto qui forse c'è qualcuno che lo fa con imbarazzo e che dovrebbe essere un pochino più sincero un pochino più onesto a dire che la posizione qui è questa ma poi a Roma è un'altra a difendere la regione e a scongiurare questi tagli che con i numeri di fronte ai quali poco si può dire grazie 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 grazie